Chiusura negativa per le borse europee dopo una giornata di scambi senza particolari spunti. A Milano il Fuzzi Nib cede lo 0,35% con le altre piazze del continente tutte in rosso. A Piazza Affari le vendite colpiscono soprattutto i titoli del comparto industriale. Tenaris, Jux e Buzzi Unicem perdono oltre 3 punti percentuali, mentre sono penalizzate anche CNH Industrial e Fiat Chrysler. Ancora calo per i bancari dopo la giornata nera di ieri. In controtendenza Unicredit nel giorno della chiusura dell'aumento di capitale da 13 miliardi di euro. Arretrano di oltre un punto anche Mediaset e Generali, Maglia Rosa e Telecom Italia, che sale dell'1,5%.